Amadeus, finalmente la verità sul perché ha lasciato Sanremo. Colpa di sua moglie Giovanna. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie! La decisione di abbandonare il ruolo di conduttore a Sanremo non è stata affatto semplice, ma per Amadeus è stata necessaria. Dopo cinque anni, è arrivato il momento di mettere se stesso e la sua famiglia al primo posto. «Ho fatto questo per cinque anni, ora ho bisogno di dedicare del tempo a loro», ha sottolineato, evidenziando la sua scelta con commozione. La sua famiglia è sempre stata una priorità, ma il tempo trascorso insieme è stato limitato a causa del festival e degli altri impegni che lo hanno costretto a dividere la sua presenza tra Roma e Milano. Ora, desidera esplorare nuove opportunità professionali che gli consentano di trascorrere più tempo con i suoi cari. La famiglia di Amadeus è nota per la sua unità. Sua moglie Giovanna Civitillo, che ha incontrato durante la conduzione del programma L'Eredità e il loro figlio, Osè, sono sempre stati al suo fianco, pronti a sostenerlo in ogni momento. Amadeus è profondamente grato per il loro sostegno, ringraziando in particolare la moglie per essere stata al suo fianco nei momenti di difficoltà, dei quali ce ne sono stati molti.